Scusi, prego, posso? Buonasera, è permesso, questo non si fa. Non è questo il modo, non è la maniera di amministrare la comunità. Sano i principi di una buona educazione. Voglio la cultura, bisogna anticipare. Ci sono cose importanti, vanno sostenute. Oppure la cultura morirà. Teatro per bambini, nessuna censura, lo scopo distruttivo non si sa. Caro assessorato, non ci può abbandonare, l'anticipo io canto a salavare.